Per l'esperienza che abbiamo fatto noi in questo tempo, sicuramente un processo di cambiamento che è quello che stiamo vivendo tutti i giorni, è un processo che va accompagnato e quindi sicuramente le istituzioni se vogliono, secondo noi, svolgere un ruolo positivo, sicuramente dovrebbero accompagnare questo processo di cambiamento, accompagnarlo e quindi eventualmente incorporarlo nel momento in cui questo produce delle ricadute positive. Per noi come cooperativa sociale il processo di cambiamento l'abbiamo cercato di mettere in moto facendo, quindi ci siamo un po' stancati di aspettare che qualcuno ci dica dove andare, abbiamo provato a farlo con il nostro progetto e abbiamo scoperto che le cose si possono fare, c'è bisogno di qualche visione, c'è bisogno di una prospettiva, c'è bisogno soprattutto di provare a innescare un processo di cambiamento positivo. L'innovazione sociale sicuramente è un tema che tocca tutti e che probabilmente è un tema abbastanza controllabile perché l'innovazione sociale è vicina a noi, non è in Silicon Valley o non è in altri luoghi e quindi è un tema che può essere dominato dalle singole comunità e quindi forse è alla nostra portata e questa è stata la nostra piccola intuizione. Sicuramente tornando indietro circolarmente alla domanda, però questo è un processo che va accolto e va accompagnato se è giusto per dargli la forza che può avere diversamente. Sicuramente le sfide sono nuove, nel senso che ibridazione, sicuramente il domani probabilmente prevedrà l'incontro di più mondi e quindi ci vorrà la capacità di tenere insieme valori e nuove soluzioni su modelli che siano rispondenti però a nuovi bisogni e a nuovi incontri. Il profit si incontrerà con il no profit. Ecco, come sciogliere un terreno abbastanza complicato? Dire che non esiste il problema probabilmente non è il caso, lavorandoci insieme sicuramente ce la faremo. Trovo che questa era la prima volta che io venivo e quindi l'ho trovata interessante e comunque sicuramente un momento di confronto importante che poi in realtà si gioca nella relazionalità, quindi vanno oltre le relazioni accademiche e poi nei tavoli si sviluppano, quindi sicuramente c'è bisogno di luoghi, luoghi di incontro e luoghi di incontro dell'innovazione e del pensiero, perché molto spesso l'isolamento non aiuta processi ampi, quindi sicuramente è una bellissima iniziativa e sono stato molto contento di partecipare.